Buongiorno, benvenuti sul canale Pratiche Sartoriali alla Moda. Vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana. Oggi faccio la recensione di due capi insieme, pantaloni numero 3 e gelè lungo e elegante che sto indassando adesso. Sono molto soddisfatta di questo completino e quello che ho capito è che in base alla modellistica che vi ho dato di questo gelè e quella dei pantaloni che da voi devono ancora arrivare, potrete creare tantissimi completini carini e particolari. Il cartamodello di questi pantaloni io l'ho salvato e di sicuro mi farò anche di altri colori, tipo bianchi, neri e così via. La recensione di oggi avrà tre tappe. Prima vi faccio vedere in completo così, così analizzate attentamente il gelè su di me. Dopo tollerò il gelè e vi farò vedere come si presentano i pantaloni e il top. Io qui a breve farò una camicia manica tre quarti in cotone bianco perché io la vedo così in questo completino, anche se con un top come adesso va molto bene. Voglio fare una bella camicetta bianca senza coletto ovviamente perché abbiamo questa scolatura particolare del gelè, per questo non va bene una camicetta con coletto. Avrà però una manica particolare e quando tollerò il gelè deve essere presentabile anche solo con la camicia e i pantaloni. Per questo io lo vedo così ma va benissimo anche con una blusa bianca come indosso, cioè non c'è nessun problema, solo che io voglio una camicia con una manica particolare tre quarti. Guardiamo il gelè, poi vi farò vedere i pantaloni e alla fine vi farò tutto anche dal rovescio in tavola. Io penso che in questo completo c'è qualcosa di nuovo. Sono cappi nuovi nel mio armadio, molto moderni, come anche il gecchino a righe beige, i pantaloni numero 2 e adesso questo completo. In questo modo piano piano cambia sia il mio look che anche il mio stile e anche chi segue il nostro canale grazie a queste lezioni cambieranno e diventeranno più moderni. Sono molto soddisfatta che ci seguite, ci sostenete e per questo dico grazie mille a tutti. Un'altra volta guardate bene il gelè perché è molto importante che capite bene come è la sua vestibilità. Così è da chiuso e si può lasciare anche da aperto così. Tutte e due modi si può portare. Ora tolgo il gelè e vi faccio vedere i pantaloni. Guardate come questo modello di pantaloni snelliscono, semplicemente meraviglioso. Guardate qui che cinturino ha. Alto con sormonto davanti e quattro bottoni. Due a destra e due a sinistra. Guardate attentamente come cadono i pantaloni. Hanno una vestibilità pazzesca. Perché ora vado a cambiarmi e vi faccio vedere al tavolo come sono stati confezionati. Sicuramente non mi fermo solo ai pantaloni rossi. Un modello così lo voglio in diversi colori e anche abbinati a diversi top camice o bluse. Io sono molto soddisfatta ma soprattutto mi fa un sacco piacere potervi farvi vedere anche a voi i risultati del nostro lavoro. Ma soprattutto il risultato del lavoro delle nostre sarte perché hanno le mani d'oro. E un'altra cosa nonostante i pantaloni sono fatti in tessuto molto rigido mi sento molto confortevole e hanno una vestibilità pazzesca. Tessuto lino misto viscosa è un tessuto molto rigido soprattutto in questi modelli. Vi voglio ricordare che qualsiasi tipo di lino anche quello misto, i cotoni, denime e così via si fanno con cuciture di bellezza sopra. Perché questa tipologia di tessuti perde stile se non facciamo le cuciture di bellezza. Ci sono tessuti dedicati dove meno cuciture si fanno mele. Invece questa tipologia di tessuto lo richiede e se non si fanno sembrano strani. Cioè è molto importante questa particolare. Ora guardiamo per prima il gilet. Come vedete qui abbiamo le cuciture di bellezza doppie addirittura sia da un lato che da un altro. Anche questo margine dopo vi faccio vedere come è stata fatta la poramontura. È stata ribattuta sia anche sui spacchi, all'interno rifinito con sbiego in rete. E guardate che bellezza hanno fatto le ragazze qui. Semplicemente meraviglioso. Nonostante un tessuto molto rigido le rifiniture sono molto raffinate. Sono sicura che questo completo resterà a lungo con me. Lo adoro. Mi farò anche un abito in cotone bianco con manica fino al gomito che posso abbinare con il gelè. Oppure mescolerò questo stile così severo con qualcosa di romantico. Ci penserò bene dopo. A me piace mantenere il cervello sempre attivo. Amo pensare e creare. Ora guardate qui. Qui dal centro davanti saranno sui 5 cm dati per il sormonto e sia a sinistra che a destra fatto uguale il sormonto dal centro davanti. Guardate. Vedete? Se messi insieme sono uguali. 4 asole sopra e 4 bottoni sotto. Solitamente i bottoni secondi non si fanno a vista ma siccome che il tessuto è molto rigido e io ho bisogno un po' più di sostegno qui sulla pancia abbiamo deciso di fare tutti i quattro bottoni a vista. Questa è una buona soluzione quando si vuole un po' più di sostegno in più. Cerniera classica qui del pantalone molto piccola e questo non è un cinturino. Mi raccomando ma un correo vero e proprio. Il modello di questo modello è venuto molto bene. Vi faccio un po' vedere dal rovescio. Tutti i bottoni hanno un piccolo bottoncino di sostegno sotto perché il tessuto è molto rigido come quello dei capi spalla. Dove abbiamo la lampa è stato foderato con la setta e tutti i margini sono rifiniti con sbiego in rete e ovviamente tutte le cuciture sono state ribattute dal dritto. Noi abbiamo fatto tre tipi di modellistica per i pantaloni che da voi arriveranno appena sarà pronto il corso. Ci saranno tanti altri modelli che faremo insieme però. Non ci fermiamo qui. Con questo per oggi vi saluto. Iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace, acquistate i nostri corsi e imparate insieme a noi. Saluto tutti. Con voi sono stati Paus Terina Mikhailovna e tutto il nostro team.